Mario Cutola è il nuovo capogruppo del PDL, un lavoro certamente non facile, è il capogruppo del partito di maggioranza relativa che governa questa città? Sì sicuramente, chiedo scusi innanzitutto per la voce perché ho preso un po' di freddo con l'aria condizionata in questi uffici comunali, sicuramente sarà un lavoro molto molto difficile, è un lavoro molto impegnativo, un lavoro che ho intrapreso con grande serietà e spero con grande professionalità, credo che comunque alla lunga i risultati arriveranno perché il gruppo del PDL che si è appena costituito è un gruppo nuovo, un gruppo composto da persone serie, da persone motivate che insieme concorrono verso un unico obiettivo che è quello del benessere della città e il benessere dei nostri cittadini, quindi di Pozzuoli. Sì al Cutolo, non sarà un compito facile, dicevo all'inizio, anche perché c'è qualche problema all'interno di questa maggioranza, soprattutto con Pozzuoli Futura, da dove lei previene e dove è stata eletta? Pozzuoli Futura è una lista civica dalla quale chiaramente provengo, una lista che come detto spesso è una costola del PDL, io credo di aver intrapreso una naturale semplificazione, quindi un naturale passaggio e si è entrato in un discorso molto più ampio, in un partito, che è il partito più importante d'Italia e che è il partito della maggioranza relativa qui a Pozzuoli. Pozzuoli Futura la ringrazio, l'ho ringraziata pubblicamente più volte sui giornali per l'opportunità che mi ha dato, per la visibilità politica, per gli insegnamenti politici che ho ricevuto all'interno dell'Associazione del Movimento Tutto. Il PDL mi ha accolto in maniera straordinaria con uno spirito di abnegazione da parte del commissario cittadino, da parte dei consiglieri tutti e soprattutto da parte della città, ho avuto dei riscontri positivi, sono stato elogiato per aver intrapreso un percorso serio, onesto, è stato un percorso meritocratico, soprattutto non mi è stato regalato niente. Può essere la persona che può mediare fra il PDL e Pozzuoli Futura per la ricomplettazione di questa maggioranza? Io me lo auguro anche perché in queste ore si sta procedendo a una semplificazione ulteriore, ci saranno dei passaggi nelle prossime ore di altri consiglieri, stiamo cercando di snellire il processo politico, stiamo cercando di portare di nuovo una maggioranza a 14 per governare serenamente questa città insieme al nostro sindaco l'ingegnere Agostino Maiulo.